La geriatria di Arezzo volta pagina, abbiamo un nuovo primario, dottor Luciano Gorelli. La nostra USL è la USL che ha una popolazione anziana più vecchia di tutti, ovvero siamo circa il 27-28% della popolazione risulta essere over 65 e un 5% over 85. Quindi è importante gestire il paziente anziano nella complessità del caso, come ha detto lei, sia in ambito ospedaliero ma soprattutto in ambito territoriale. Grazie a nuovi fondi del PNRR riusciremo, speriamo, ad garantire un'assistenza territoriale più efficiente grazie alla formazione dell'infermiere di comunità, della casa di comunità e dell'ospedale comunità. Potremo gestire i pazienti a livello territoriale, diciamo, evitando le ospedalizzazioni che purtroppo nell'anziano, un anziano fragile, portano spesso e volentieri a una perdita completa della propria autonomia e quindi il grave rischio di un'istituzionalizzazione che indubbiamente favorisce poi delle outcome negative e quindi aumenta notevolmente il rischio di morte. Noi abbiamo un'età media superiore agli 85 anni. Le patologie principalmente sono patologie dell'ambito cardiocircolatorio, quindi scompenso cardiaco, fibrillazione atreale e patologie dell'arbitro respiratorio. Noi abbiamo anche la delirium room, quindi gestiamo anche i pazienti con decadimento cognitivo e quindi con disturbi poi comportamentali.